Sanità, l'ultima domanda, è stato consegnato il pallone d'oro a Messi, l'ottavo pallone d'oro, ma lei tra Messi e Maradona, chi preferisce? Io metterò un terzo, Pelé, sono i tre che io ho seguito, Maradona come giocatore è un grande, un grande, ma come uomo è falito. Il poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano, è venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato e poi il poveretto ha avuto la fine. E' curioso, tanti sportivi finiscono male, anche del boxeo tanti finiscono male, è curioso quello. E Messi è correttissimo, è correttissimo, è un signore, ma per me di questi tre il grande signore è Pelé, ma è un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho trovato su un aereo, quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato, ma è un uomo di una umanità così grande. Ma i tre sono grandi, ognuno con la sua specialità, ma Messi è bravo in questo momento, è uno dei bravi, e Pelé era un bravo. A presto. A presto.